Che cosa ci fai qui? Devo parlarti. Questo posto è prima di mascalzoni, tu qua non ci devi venire. Nemmeno tu. Ma io sono in re dei mascalzoni. Quant'è che non dormi una notte intera? Se la notte qua si fanno gli affari migliori. E parli come se fosse un lavoro. Senti, mi ci pago da vivere, quindi è un lavoro. Che vita è andare avanti giorno per giorno sperando nella buona sorte? La sorte non conta niente se sai come la devi aggirare. Comunque, di che cosa mi vuole parlare? Ho trovato un lavoro e anche un appartamento. E brava la sorellina. Di che lavoro si tratta? Cameriera al circolo. Cameriera al circolo? Come? Tu sei troppo intelligente per fare la cameriera al circolo. Dovresti puntare a qualcosa di più. Anche tu. sì, ma io mi accontento di essere furbo. Se fossi davvero furbo troveresti un lavoro vero, onesto. Ma non è facile con la fedina penale che c'ho. E poi te l'ho detto, questo è il mio regno. che cosa potrei desiderare di più? Senti, sorellina, ti porta a cena fuori. Ti va? Io e te? Madame?